ciao a tutti e bentornati al mio canale oggi vado a proporvi un secondo piatto semplice e saporito bocconcini di pollo e patate croccanti al forno per la preparazione di questo piatto abbiamo bisogno di 400 grammi di bocconcini di pollo quattro patate che io ho già tagliato a tocchettini 250 grammi di pane grattugiato olio pepe alio sale rosmarino e visto che faccio la versione piccante metto della paprika piccante che però è facoltativo andiamo con la preparazione prima di tutto prepariamo la nostra impanatura nel pane grattato cominciamo a mettere una bella spolverata di pepe un po di aglio in polvere rosmarino e paprika piccante misceliamo il tutto e nel frattempo vado a preparare i nostri bocconcini procediamo con l'impanatura olio d'oliva sui nostri bocconcini un pizzico abbondante di sale mischiamo il tutto e trasferiamo nel nostro pane grattugiato che abbiamo preparato prima con le spezie paranti i nostri bocconcini andiamo a disporli su una teglia che ho già preparato con la carta da forno fatto vado a impanare anche le patate versiamo le nostre patate nel pane grattugiato e le andiamo a unire al nostro cuore finito di distribuire le nostre patate concludiamo con olio d'oliva un pizzico di sale e non ci resta che infornarle 35 minuti a 190-200 gradi forno salto a metà cottura diamo una girata al nostro pollo e patate e lo rimettiamo in forno i nostri bocconcini di pollo con le patate croccanti al forno sono pronti buon appetito a tutti vi aspetto per la prossima ricetta ciao ciao